Buonasera, benvenuti alla seconda partita di questa seconda giornata di Training Camp. Hanno giocato Pietropaolo contro Pianese e Pietropaolo ha vinto 9 a 1. Presentatevi. Mario Gentile, Fabio Giordano, Daniele Saturna, Gioele Pietropaolo, Umberto Pietropaolo. Allora, complimenti. Allora, chi è il capitano Pietropaolo? Cosa vuoi dire? Tutto e tu, li faccio a lui. Allora, è stata una bella partita. Abbiamo dimostrato che siamo in grado di giocare in questo torneo e dovremmo migliorare, ovviamente. Non siamo pronti. Abbiamo fatto certe subitaggini anche al portiere. Quindi, concretamente, come prospettiva per il torneo? Non abbiamo nessuna prospettiva. Vogliamo solo migliorare e andare il più avanti possibile. Bene. Ti hai fatto tre gol? A chi li dedichi? A me. A me. A me. Vai, a me. A me. A me. A me. Mister. Tu cosa vuoi dire? Io devo dedicare i gol. Della partita non vuoi di niente? No, no, no. Come? No, sì, devi dire. Lo dirò dopo tre o quattro partite. No, questa qua non parla. Vabbè, e tu li hai fatto? Io ho quattro, che ho un batticchio di tre giugno. Secondo me 9-1 e l'hai voluti graziare, però non fa niente. Vabbè, chi li dedichi? A una mia amica che si chiama Rosa Maria. Tio e cinque. Tu cosa vuoi dire? No, speriamo che sia una delle tante vittorie che faremo. Quindi, e di lui è positivo per il torneo? Sì, ovviamente. Tu hai fatto qualche gol? Sì, uno solo e lo dedico alla mia famiglia. E di lui è onesto, dice che ha fatto un gol, tu invece le fingi. Vabbè, tu invece? Tu non hai fatto niente, hai segnato, no? Lo dedico alla squadra. Della partita? La partita bisogna vedere più tardi. Ma perché? Questa partita com'è andata? Questa partita è andata benissimo, perché ho giocato a pallone. Poi Mario ha segnato e volete... Mario ha segnato e chi li dedichi? No, non ho segnato, però voglio dedicare sempre il gol. Non ho segnato. Però è come se avessi segnato e voglio dedicare il gol alla mia mamma. Va bene, io vi auguro un bocca al lupo per il torneo. Un bacio alla Mavericks. Un bacio all'inizio. Grazie a tutti.